Sandra Bullock, il volto inconfondibile degli anni 90 e 2000, ha fatto una scelta sorprendente due anni fa. Dire addio al cinema per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Ma chi è davvero Sandra Bullock, oltre l'attrice che tutti conosciamo e amiamo? Nata il 26 luglio 1964 a Darlington, Virginia, Sandra Annette Bullock ha trascorso gran parte della sua infanzia in Germania a Fürth, essendo figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito americano. Fin da giovane, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo europeo. Tuttavia, è stato il ritorno negli Stati Uniti a segnare l'inizio della sua brillante carriera. Dopo essersi trasferita a New York, Sandra ha lavorato come barista e cameriera per mantenersi mentre seguiva corsi di recitazione. Il suo primo ruolo arriva nel 1987 con il film Hangman. La vera svolta arriva però con la sitcom Working Girl, una donna in carriera. Da lì, Sandra alterna commedie e ruoli drammatici, facendo innamorare il pubblico di tutto il mondo. Chi non ricorda i suoi film più iconici? Speed con Keanu Reeves? Miss Detective, Crash Contatto Fisico e il capolavoro The Blind Side che le ha fatto vincere un Oscar nel 2009. E chi può dimenticare la sua incredibile performance in Gravity di Alfonso Cuaron? Sandra ha avuto una vita sentimentale altrettanto affascinante, dopo relazioni con Matthew McConaughey e Ryan Gosling. Ha sposato Jesse G. James nel 2005, un matrimonio finito cinque anni dopo per un tradimento di lui. Nel 2010, l'attrice ha adottato un bambino, lui. E nel 2015, una bambina, Laila. La sua ultima relazione significativa è stata con il modello e fotografo Brian Randall, scomparso nell'agosto 2023 a causa della SLA. Sandra Bullock non è solo un'attrice straordinaria, ma anche una donna coraggiosa che ha scelto di mettere la famiglia al primo posto. Un gesto che dimostra la sua grandezza anche fuori dal set. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altre storie incredibili delle vostre star preferite.